24 imprenditori o amministratori di imprese specializzate nello smaltimento dei rifiuti sono sotto inchiesta a Novara. Sono accusate di aver tentato di frodare le ferrovie dello Stato con lo smaltimento del pietrisco dei binari contenente amianto. Invece di smaltirlo, secondo quanto emerso dalle indagini, cambiavano i documenti di accompagnamento. L'inchiesta riguarda 24 imprenditori o amministratori di imprese specializzate nello smaltimento dei rifiuti. Le accuse sono di associazione per delinquere, traffico illecito di rifiuti e frode ai danni di ente pubblico, le ferrovie dello Stato. Secondo quanto emerso dalle indagini della procura di Novara, le imprese, capofila la Arfer di Alessandria, facevano risultare, a seconda delle convenienze economiche, come pericoloso o non pericoloso il pietrisco ferroviario contenente amianto. I camion entravano nell'impianto di smaltimento di Caltignaga, paese a 6 km da Novara, e invece di scaricare il pietrisco cambiavano la documentazione che lo accompagnava e ripartivano per altri luoghi. Le imprese incassavano il prezzo previsto per lo smaltimento di materiali altamente inquinanti, dunque in porti molto alti. Il pietrisco veniva in realtà smaltito o scaricato come materiale ordinario, dunque a costi molto bassi. E in più, quando il pietrisco era ordinario davvero, veniva fatto risultare come altamente inquinante, in modo da poter anche in questo caso fatturare costi molto alti. Il raggiro ai danni delle ferrovie dello Stato ha riguardato 43.500 tonnellate di pietrisco asportato durante i lavori alla stazione Stura di Torino e oltre 55.000 tonnellate asportate a Porta Susa. Secondo gli inquirenti, anche a causa di questo raggiro, i costi del passante ferroviario di Torino salirono da 8 a 27 milioni di euro. Ci sarà presto la richiesta di rinvio a giudizio.